Bentornati a Non Solo Roma, ci trovate con il sorriso perché adesso alleggeriamo decisamente il tiro dopo il tema così delicato che abbiamo affrontato e che speriamo possa essere stato di qualche utilità a chi è all'ascolto. Facciamo un bel tuffo nella storia ma anche qualche consiglio utile in fatto di moda e di società con Pink Magazine Italia, il nostro consueto approfondimento del giovedì e con noi come sempre c'è la direttrice Cinzia Giorgio, a cui dà il buongiorno e il bentornata. Buongiorno a tutti, buongiorno Elisa, buongiorno. Allora tu devo dire Cinzia hai lo sfondo dietro che è perfetto per anticipare il tema che affrontiamo perché parliamo un po' di librerie moderne e dell'inventore che non tutti conoscono. Esatto, si chiama James Luckington ed era un calzolaio, da calzolaio al libraio. Incredibile. Una cosa assurda, però è vero nel senso che lui era un amante dei libri e non aveva potuto studiare perché era nato in una famiglia molto povera a metà del Settecento, quindi stiamo parlando della Londra tra il Settecento e l'Ottocento e per cui insomma aveva, pensa, imparato da solo a leggere e a scrivere, soprattutto a leggere in realtà e voleva dare la possibilità a tutti di fare la stessa cosa. E quando apre la sua prima bottega di calzolaio diventa abbastanza ricco da poterci inserire anche i libri. Elisa mi fa ridere questa cosa che i libri e le scarpe che sono i migliori amici delle donne, oltre gli amanti, erano venduti insieme. Beh, devo dire che ha anticipato quello che poi sarebbe successo dopo, no? Dai. Cioè un visionario. Un visionario assoluto, veramente. E quando poi insomma apre questa libreria scarperia, non si capisce bene, fa così tanti soldi alla fine, grazie ai libri, che si mette insieme a un socio e apre il Tempio delle Muse, un bellissimo nome per una libreria, che è una libreria che vende, proprio veramente siamo al prototipo di qualsiasi tipo di libraio e di libreria, perché vende anche l'usato per i più poveri. La sua caratteristica che mi fa tanto sorridere è che regalava anche i libri, ma se gli chiedevi uno sconto si investia l'IVA e ti mandava fuori dalla libreria. Per cui, insomma, c'è una visione un po', ecco, bella indirizzata, no? Ecco, dai, era insomma caparvio, ecco, lo potremmo definire così. Cioè, nel senso, se me lo chiedi non ti do quello che mi stai chiedendo, lo faccio io però. Beh, è una visione, insomma, devo dire che... Sì, no, poi ricordiamoci che nella Londra di fine 700, inizio 800, l'alfabetizzazione era molto aumentata, però i libri costavano ancora tanto. Grazie a lui, grazie a questa intuizione geniale, perché poi lo dobbiamo a lui, se adesso ci sono le grandi librerie, finalmente le persone potevano anche andare semplicemente a leggere senza dover necessariamente comprare i libri. Ecco, e poi è davvero, devo dire, geniale, come hai detto tu, la questione, no? Insomma, calzolaio, libraio, cioè, incredibile come la vita possa cambiare da un momento all'altro, da un momento all'altro in questo caso non proprio, però, insomma, se si vuole davvero qualcosa, no? Cioè, è un bel messaggio anche, devo dire. Il messaggio è l'amore per la cultura, per la diffusione della cultura, per fare in modo... L'amore verso gli altri, perché lui chiaramente amava gli altri per volere così tanto aprire l'opportunità di leggere a tutti, per cui possono portare veramente lontano e cambiarti la vita, è meglio in questo caso. E lo ringraziamo davvero. Il secondo argomento invece che trattiamo, in realtà, i due argomenti, gli ultimi due che trattiamo, sono in realtà un po' collegati tra di loro, perché siamo in piena stagione estiva, ai nostri ascoltatori se ne sono resi conto fa caldissimo, oggi è bollino rosso, e d'estate purtroppo c'è una piaga, devo dire, ignobile, che è quella dell'abbandono degli animali. Ci sono tante campagne in atto, però sembra che il messaggio a tanti non arrivi, purtroppo, Cinzia, e questo è davvero agghiacciante. Sì, e ogni anno il fatto che il Ministero si debba ingegnare per promuovere un'ennesima campagna, quest'anno si chiama inseparabili in vacanza, è una cosa triste. Diciamo che partiamo con un dato positivo però, Elisa, perché altrimenti ci deprimiamo. Il dato positivo è che sono diminuiti notevolmente i casi, sono diminuiti i casi di abbandono di animali, soprattutto di cani in realtà. Il gatto, a quanto pare, dalle statistiche è più facile affidarlo a qualcuno perché è meno impegnativo, ma il cane purtroppo no, quindi sono tantissimi i casi di abbandono. Quest'anno sono un po' di meno per il momento, chiaramente, perché purtroppo l'estate non è ancora finita, però diciamo che la tendenza è alla diminuzione, quindi questo è già un dato positivo. Un altro dato positivo è che è diventato, lo sappiamo per legge, il codice della strada prevede 10.000 euro di ammenda se vi trovano ad abbandonare un animale per strada, qualsiasi tipo di strada, sia autostrada che stradali e anche cittadine. Quindi, insomma, è un deterrente bello importante. E infatti, è meno male. No, meno male, meno male assolutamente. La LAV e anche l'Unione dei Veterinari ci raccontano anche che l'introduzione obbligatoria di vaccinazioni e microchip, diciamo che ha contribuito negli anni a diminuire i casi di abbandono. Certo, ci sono però abbandoni e abbandoni. Ci sono anche casi in cui magari il padrone non può proprio occuparsene perché è impossibilitato. E allora in questi casi, che cosa fare? Il Ministero ci dà un elenco anche di chat rescue, così si chiamano, dove poter raccontare la propria problematica, dire io devo fare un'operazione, devo andare da qualche parte, devo mancare per un tot di mesi, che cosa posso fare? E quindi queste chat, diciamo, aiutano il ricollocamento dell'animale domestico. L'animale domestico, ricordiamolo, non è un giocattolo, non va regalato come un giocattolo, perché spesso si confondono le cose. È un essere vivente e entra a far parte di una famiglia e quando entra diventa un membro della famiglia. Al di là di tutte le strumentalizzazioni in cui si dice non bisogna considerarli figli, eccetera, però sono esseri viventi che ci fanno compagnia, che ci danno tanta gioia e abbandonarli è veramente disumano. Diventiamo noi, ecco, ci tenevo a sottolinearlo, al di là di tutto. Poi ci sono ormai veramente tanti modi per lasciarli in qualche struttura apposita. Esatto, Cinzia, diciamolo, piuttosto che abbandonarli in mezzo ad una strada sotto il caldo, con il rischio che possano essere investiti o che possa succedere chissà che cosa, a questo animale che ci ha dato tanto amore e tanta fedeltà, a quel punto meglio lasciarlo in strutture dove ci sono specialisti che possano prendersene cura o magari farlo adottare da un'altra famiglia, no? Cioè è molto meglio così, no? Certo, ho rapporti di buon vicinato, semplicemente. Io faccio un favore a una mia vicina, tengo il gatto, tengo il cane e poi dopo avrò modo di riprendermi, diciamo, il debito. Però non è una cosa, è un essere vivente, per cui ricordiamocelo sempre, non è mai abbastanza le volte in cui si dice, per cui ripetiamolo, ci danno gioia perché dobbiamo disfarceli come se fosse spazzatura, non è giusto, è orribile. È verissimo, è verissimo, è davvero anche brutto doverlo ripetere Cinzia, però com'è che dicevano gli antichi, ripetita Juvent, no? Magari arriva il messaggio, ecco. Concludiamo con, insomma, fa caldo, l'abbiamo detto, si toccano punte di 40 gradi, li abbiamo anche superati, penso. Ma quanto è difficile effettivamente stare in ordine d'estate Cinzia? Cioè è difficilissimo secondo me. È praticamente impossibile in alcuni casi, questi giorni di bollino rosso, poi è veramente dura, è veramente dura. Di nuovo interviene il Ministero della Salute, stavolta, con chiaramente un pamphlet che si può scaricare anche dal nostro sito, che rimanda direttamente al pamphlet, nel quale appunto ci dicono gli esperti che cosa fare e che cosa non fare. sappiamo benissimo di non dover uscire in determinate ore, soprattutto se abbiamo la pressione bassa, di bere tanto, di non affaticarci troppo, soprattutto sotto il sole, di proteggerci sempre, eccetera. Però ci sono delle cose che oggettivamente possiamo fare mantenendo un minimo di stile, Elisa, perché col caldo è molto molto complicato. E noi, insomma, abbiamo individuato quattro cose che vanno oltre chiaramente i rimedi istituzionali. E cioè... Sì, i rimedi, diciamo... Come rimediare a quattro infauste... Sì, esatto. Situazioni. Situazioni dovute al caldo. Chi porta gli occhiali, io li porto ogni tanto, mi vedete anche con gli occhiali, purtroppo lo sa, le montature in estate devono essere più leggere possibile, perché veramente sono fastidiose, ci fanno sudare tantissimo. Possiamo ovviare agli occhi fotosensibili, chi porta gli occhiali spesso ha anche occhi fotosensibili, nel senso che hanno difficoltà a mettere a fuoco con la luce, o lacrimano, bruciano, eccetera. La lente, ci siamo informati, la lente migliore è quella bruna, quindi non troppo scura, ma nemmeno troppo chiara, e la montatura migliore è quella titanio, di solito, molto leggera, perché così ovviamo al problema del posizionamento degli occhiali, qui sul naso, che spesso e volentieri ci fa sudare anche solo l'idea di mettere gli occhiali. Verissimo, verissimo, e ci scivola poi tra le altre cose, va verso il basso. Esatto, sì. Poi gli abiti freschi, preferiamo i tessuti chiari di cotone, lino, eccetera, e poi diamo un po' di indicazioni, se mettere o non mettere il fondotinta, se mettere o non mettere il mascara, quale mascara, e soprattutto il rossetto, che dobbiamo metterlo a prescindere, perché esalta il nostro incarnato, possibilmente un po' più abbronzato, e soprattutto ci fa sentire, ci fa sentire, andiamo all'attacco con un bel rossetto. Beh, ecco, eccolo qui, voi avete messo la, insomma, la consueta citazione che devo dire per me è sempre oro, Cinzia, Chanel lo riteneva un antidepressivo, quindi mai privarsene, ecco. Esatto, anche noi. Assolutamente. Grazie Cinzia, è stato un piacere anche oggi, consigli utilissimi, e insomma ci ritroviamo la prossima settimana con altri spunti, altri racconti sempre in tua compagnia, grazie davvero. Grazie a voi Elisa, buon proseguimento. A presto.